Mia madre mi diceva sempre che la paura mi avrebbe bloccato. Ricordo durante una partita di essere al servizio e l'improvviso di pensare «Oh mio Dio, ho aspettato questo momento da anni e ora devo coglierlo, non devo avere paura». Per un bambino è stato sicuramente il momento più intenso della mia vita. E allo stesso tempo più spaventoso perché mi chiedevo «Posso essere una buona madre? O sarò una madre terribile?». Ed è stato pazzesco perché dopo le complicazioni che ho passato, il mio intervento, onestamente non ero sicura di cosa sarebbe successo. La famiglia, il mio team, sono fondamentali per me. Ad esempio ricordo la paura di saltare in una piscina. Dissi a mio marito so giocare a tennis e quindi salterò in quella piscina. Semplicemente vedrò cosa succede. E quindi nella vita ho solo provato a superare le mie paure. Non avrei mai pensato che io sarei stata in finale di due slam consecutivi e fino a quando non è successo la paura era dentro di me. La paura ha un nemico enorme per le persone. Quindi personalmente entro in questa mentalità dicendomi «So che posso farcela». E il campeonato Wimbledon del 2015, Serena Williams! Puoi scrivermi nella storia con le tue amare con torte bugie. Potresti provare a gettarmi nella sporcizia, ma ancora io mi solleverò come la polvere. Proprio come la luna e il sole, come la certezza delle maree. Proprio come la speranza che scorga alta e immobile. Io mi rialzo. Vuoi rivedermi rotta? La testa china e gli occhi bassi? Le spalle che cadono in basso come lacrime in vento? Con le mie grida piene di sentimento? Fuori dai confini della vergogna e della storia, io mi rialzerò. Da un passato radicato di sofferenze, io mi rialzerò. Da un oceano nero, balzante e immenso, mi rialzo. Lasciando dietro notti di terrore e paura, mi rialzo. Fino a presentarsi di un'alba meravigliosamente limpida, portando i doni che i miei antenati mi hanno dato. I sogni, la speranza, io mi rialzo. Mi rialzo. Mi rialzo. Arise. Arise.